E' il dia dello Sreias e gli spagnoli lo amano più del giorno di Natale. Grandi festeggiamenti a Madrid questo giovedì sera come di consueto per celebrare l'Epifania, cioè l'arrivo dei tre re magi con oro, incenso e mira alla grotta della Natività, secondo la tradizione cristiana. Un'Epifania blindata dopo l'attentato al mercatino di Natale di Berlino a Madrid, da 800 poliziotti in assetto antisommossa, hanno sorvegliato la festa e l'ingresso in città ai mezzi pesanti è stato vietato. Il reto annuale si è consumato senza incidenti e la Spagna ancora una volta si è lasciata incantare dalla sgargiante sfilata. Chissà poi se i tre re magi a messo siano esistiti erano davvero andalusi, come dicono alcuni teologi, compreso Papa Benedetto XVI.